Libertà! 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 Conto la legge dei figli, siamo tutti gratitudini! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io ho visto in uno dei volantini che avete voi una frase bellissima. Volivano braccia e sono arrivati uomini. Noi raffreddiamo nessuno, non raffreddiamo nessuno, non raffreddiamo nessuno, ma se noi col fronte, col fronte viviamo, col fronte, mi entro la mattina, prendo la borsa e vado al mare a lavorare. Perché questo riguardo non mi dà un permesso di sognare per poter lavorare. Stiamo lottando per noi, ma stiamo lottando soprattutto per le nostre famiglie che sono rimasti laggiù. Che questi diritti che si stanno chiedendo non sono diritti di un futuro che si stanno storiando, sono diritti negati. Nei nostri paesi i dittatori vengono finanzati e appoggiati e armati dalle stati europee e americane per mantenere lo stato di terrore e della guerra, della povertà e della fame. Siamo nati in una terra infinitamente ricca e di tutto questo richiesto a noi mai niente. Si è stata sempre rubata con la violenza e la sopravassione. I paesi di questi conflitti democratici si hanno rubato il nostro futuro. Ogni giorno centinaia e migliaia di nostri fratelli e sorelli rischiano la vita per raggiungere l'ampodusa perché non hanno scelta. Siamo stati costretti a immigrare, ma non siamo scappati. Non abbiamo abbandonato il nostro popolo, non abbiamo abbandonato le nostre famiglie. Non siamo scappati della nostra responsabilità, dei nostri fratelli, dei nostri affetti, dei nostri doveri. Noi stiamo lottando. Qua gli immigrati sono sporci per protestare, gli immigrati sono sporci con la repressione e questo è il prezzo per alzare la testa. Non vogliono che i ragazzi avranno permesso di soggiorno per poter lavorare e per poter tornare a casa. Senza permesso di soggiorno noi non possiamo vivere una vita dignitosa. Senza permesso di soggiorno noi siamo persigliati e vittime della delinquenza e dei truffatori. Senza un permesso di soggiorno noi non possiamo contribuire allo sviluppo di questo paese. Senza permesso di soggiorno non possiamo sposarsi, titulare i nostri figli. Il permesso di soggiorno su questa terra a noi è stato rilasciato il giorno in cui noi siamo nati. Perché? L'umanità ha il permesso di soggiorno nel suo TNA. Non è riconosciuto, significa negare un diritto fondamentale, qui è importante il diritto alla vita. La Corte Europea, il Consiglio di Stato, il mondo interno ha riconosciuto l'illegalità del reato di clandestinità. L'unico reato lo commette chi crea la clandestinità. L'unico reato lo commette chi crea la clandestinità.